Storicamente sono sempre esistiti momenti di grande depressione, divisione economica tra ricchi e poveri. Solo quelli che si sono azzardati a scoprire nuovi orizzonti sconosciuti hanno trovato la ricchezza. Sviluppo del capitalismo, nascita di grandi imprese e del sistema di produzione. La suddivisione dell'economia e della sua relazione diretta con l'intelligenza delle persone. 1914. Prima guerra mondiale. 1929. La grande depressione, il crack del 29. 1939. Seconda guerra mondiale. Crisi industriale. Boom del settore servizi, pubblicità, marketing, persone. Libero mercato. Globalizzazione, relazioni internazionali, esportazione. Sei pronto? Luis Costa, imprenditore. Il successo è la realizzazione progressiva di un sonno. Nelson Mandela, premio Nobel per la pace. L'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. Walt Disney. Se lo puoi raggiungere, lo puoi realizzare. Earl Nightingale. Ci trasformiamo in ciò che pensiamo. Dottor Mario Alonso Puig, neuroscienziato. Con un'attitudine positiva, il nostro cervello sarà capace di sviluppare uno spirito imprenditoriale. José Ortega e Gasset, filosofo. È possibile avanzare solo quando si guarda lontano? Si riesce a progredire solo quando si pensa in grande? Benvenuto in Cum Laude 21. Formazione per la nuova economia. Cerchiamo il tuo successo. Aziende indipendente che da 25 anni forma imprenditori annuali. Ti insegniamo a costruire un'attività redditizia che permette di realizzare la tua libertà personale. Auguri per essere arrivato fino a qui. Dimentica la tua zona di comfort. Metti green. Abbiamo il nostro sistema di formazione. Il sistema Cum Laude 21 è stato testato ed è basato sulle esperienze di leader che, come te, hanno iniziato da zero, raggiungendo il successo. Siamo presenti in tutta Europa e collaboriamo con altre organizzazioni in tutto il mondo. Ti forniamo la formazione e il supporto continuo nel cammino per raggiungere i tuoi obiettivi economici e lo sviluppo personale. Migliaia di persone si sono formate con il nostro sistema, ottenendo eccellenti risultati. Collegati, preparati, cresci e confida in te stesso. Cum Laude 21. La rivoluzione del network. Marketing in Rates. Formazione per la nuova economia del ventunesimo secolo. Visita www.cumlaude21.net www.cumlaude21.net